Anche Napoli entra a far parte della rete europea di istituzioni culturali che cooperano per la realizzazione di progetti comuni. Con la firma di un protocollo d'intesa alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'ambasciatore francese Alain Leroy, i direttori degli istituti culturali europei con sede in città danno vita all'EUNIC, associazione istituita nel 2006 e alla quale aderiscono 26 paesi dell'Unione per promuovere iniziative nel campo delle arti, dell'istruzione e delle scienze. La sottoscrizione dell'accordo cade non a caso nel settantesimo anniversario delle quattro giornate di Napoli e testimonia l'importanza del ruolo che la città attribuisce alla cultura come leva di sviluppo sociale ed economico. Una pagina bellissima, un matrimonio che oggi alla mia presenza attraverso un protocollo hanno fatto i rappresentanti dei quattro istituti della cultura della nostra città, il Goethe, il Grenoble, il British e il Cervantes, alla presenza dell'ambasciatore di Francia in Italia, la cultura che unisce, Napoli una città aperta, una città del dialogo, ricordava la direttrice del Goethe che Napoli è l'unica città del mondo in cui l'istituto di cultura si trova nella stessa sede della comunità ebraica, quindi Napoli riesce a fare quello che in altri posti non si fanno, quello di unire, contaminare dal punto di vista culturale il dialogo, la pace, bello che avvenga oggi nei 70 anni delle quattro giornate di Napoli con il Presidente della Repubblica nella nostra città.